Ciao a tutti amici e in quest'oggi voglio spiegarvi, cioè voglio fare la presentazione del mio canale Allora, il tema della presentazione sono due cose riguardanti il mio canale Allora, uno, come è nata la passione e due, come è nato il mio nome La passione è nata dal... cioè io guardavo Cicciogamer, Bistard, Joker, il vostro caro Dexter, Xdexta Che... cioè riguardavo, mi piacevano tantissimo, spolliciavo, facevo tutto e di più Ma il vero... cioè io poi guardandogli ho detto cavolo perché non lo posso fare pure io? Allora, studiando app e non app, ricerche e non ricerche, ce l'ho fatta E... ce l'ho fatta, ho deciso di aprire il canale E... cioè questa qua... diciamo che questa qua è la fine Adesso v'aggancio alla... proprio v'aggancio alla seconda spiegazione, il nome E allora papà mi ha detto, Luca se vuoi ti aiuto io a fare il canale Vabbè, mi ha aiutato, ci ho detto, vabbè papà però mi ritrova pure un nome Perché sennò va tutto all'aria quello che ho fatto per il canale E allora papà ha detto, perché non ti chiami Lucas Video? E io ho detto, papà no, facciamo al contrario, Luca Videos Cioè una persona che produce tanti video E allora papà, vabbè, mi ha detto di sì, era d'accordo Perché voi se ci fate caso, Videos significa Video in inglese Ovviamente in italiano è invariabile però i video, dei Videos Avete capito E vabbè, niente, questi qua erano diciamo i due argomenti Della... oddio no, della... sì, della presentazione E... per il momento... cioè mo non pretendo di dirvi spolliciate, condividete Però chi è iscritto già al mio canale, metta un bel mi piace E... condivida Oppure faccia quello che gli pare E se non è ancora iscritto, si iscriva al mio canale E... non so che dirvi Quindi per il momento dal vostro Luca Videos è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti